Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi patch 8.0.1 uscita ufficialmente nel video di oggi voglio parlarvi appunto di tutte le modifiche che sono state fatte con questa patch. A partire ovviamente dal tesoro sepolto. Insomma ragazzi, la mappa che è già una settimana che sappiamo essere in game, segui la mappa per scoprire il bottino nascosto sull'isola. Trova la X che indica il punto e inizia a scavare. In poche parole ragazzi, questa è una mappa che può essere utilizzata per rintracciare i forzieri sepolti. Ogni forziere che apriamo conterrà un bottino del tesoro leggendario, quindi garantito. La X segna il punto dove il forziere deve essere disotterrato con il piccone. Possiamo ottenere una mappa alla volta in ogni game. La mappa ha una rarità leggendaria e troviamo la mappa nei bottini a terra, quindi la possiamo trovare nel loot a terra o nei forzieri. Quindi ragazzi, staremo a vedere come funzionerà in game questa mappa. Hanno aggiunto anche una modalità a tempo che si chiama coppie slittanti. Blocchi di ghiaccio ai piedi e rampini con munizioni infinite negli inventari. Ci sarà da scivolare nelle risate. Una delle modalità a tempo limitato, ovviamente l'attrito, è super ridotto e abbiamo anche una rimozione del danno da caduta. Modifiche anche per il fucile da fanteria abbassano la probabilità di trovarlo nei forzieri dal 14,41% al 13,39%. Modificano anche la probabilità di trovarlo nel loot a terra, aumentano dal 2,41% al 2,24%. Troviamo anche delle modifiche per la granata appiccicosa. Hanno modificato innanzitutto granata appiccicosa che sembra tornare in game. Modificata la probabilità di ricevere una granata appiccicosa da un bottino, da 9,42% a 5,52%. Chiedo scusa, le granate appiccicose le avevano già reinserite in questa season. Hanno modificato anche la probabilità di riceverla nel loot a terra da 1,27% a 1,02%. E portano, ragazzi, in magazzino il razzo bottiglie. Quindi non avremo più quelle cagate di capodanno. Ma la cosa veramente interessante di questa patch è il nuovo evento. Anzi, i due nuovi eventi. Il gauntlet, quindi l'evento guanto. Giocatore singolo e in coppia. Stanno praticamente testando nuove tipologie di tornei perché sapete anche che tra un mese partirà la Coppa del Mondo di Fortnite. E quindi stanno anche valutando di suddividere molto probabilmente le tipologie di game. Questo evento andrà avanti fino al 9 marzo. Praticamente, essendo così lungo, verranno assegnati dei punteggi in tutti questi giorni. E il punteggio assegnato è... Allora, ogni partita ridurrà il tuo punteggio di due punti sotto forma di biglietto dell'autobus a inizio della partita. Cioè, ogni partita che facciamo in questo torneo ci tolgono due punti. I punteggi del torneo non possono essere in negativo. Alla fine della partita, se un giocatore ha un punteggio negativo per il torneo, andremo a zero. La vittoria reale ci dà tre punti. Dal secondo al quinto posto, due punti. Da sesto al decimo, sempre due punti. Undicesimo, venticinquesimo, tre punti. Questa non l'ho capita anch'io. Ogni eliminazione, un punto. I giocatori... Non ho capito questa, scusatemi, non ho capito neanche io. I giocatori vengono abbinati agli avversari con punteggi simili. Al termine dell'evento Gauntlet, i giocatori con il punteggio compreso nei migliori 5%, quindi il top 5% di tutti i giocatori, sbloccheranno la fase finale del torneo. Allora, il torneo si svolgerà a blocchi di tre ore, non potrete fare più di dieci partite, quindi è il limite proprio massimo. E devo capire quella cavolo di cosa lì dell'undicesimo, venticesimo, venticinquesima posizione, perché non l'ho capito. I migliori 3.000 giocatori in ogni regione, quindi in ogni regione del matchmaking, proseguiranno al secondo round di domenica nello stesso orario. Quindi ragazzi, staremo a vivere insieme anche il torneo Gauntlet. Come vi dicevo già l'altro ieri, migliorano il suono del fucile d'assalto, hanno modificato anche il suono delle distruzioni delle strutture, cioè è più rumoroso se sono i nemici a buttarci giù una delle nostre costruzioni. Quindi hanno migliorato tantissimo anche l'audio dei passi, quindi sarà molto più facile capire la posizione del nemico, ridotto anche il volume dell'ombrello per la season, quello della season numero 8. Qualche modifica anche su Salva il Mondo, ragazzi, arriva la nuova guerriera felina delle Highland, nello shop, sarà disponibile ottenerla e hanno modificato un bel po' di bug nell'interfaccia utenti, dove l'equipaggiamento dell'eroe ogni tanto visualizzava dei dati provvisori, hanno sistemato anche il problema del pulsante rimozione negli slot e corretti anche alcuni bug per le abilità di alcuni eroi di Save the World, ragazzi. Risolto anche un bug nel gioco dove veniva costruito un muro usando il mouse, mentre in realtà si stava costruendo una trappola. Insomma, ragazzi, in questa patch 8.01 comincia davvero la season numero 8. Staremo a vedere anche come saranno questi tornei, speriamo che la mappa del tesoro non sia deludente. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live alle 13. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS